Ancora un pareggio interno per il Bari che passa in vantaggio dopo sette minuti nella ripresa. Azione avviata da Frappampina per Belluzzi, cross per Iorio che d'interno destro manda sotto la traversa. Il Rimini rimasto fino all'ora rintanato sulla tre quarti si spinge in avanti e corre grossi pericoli. All'undicesimo Frappampina lanciato da Iorio calcia oltre la traversa. Al ventisettesimo un'altra occasione per artiviare l'incontro ma bagnato imita il collega Frappampina e manda fuori. Il Rimini punisce tanti errori a sette minuti dalla fine. Favero, lo stopper, indirizza verso la porta a volo. Serena, cannoniere al contrario in questa occasione, inganna Grassi. È l'uno a uno.